alla fine delle finals facciamo il tifo persino tutti insieme quindi iscrivetevi 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 lasciate like al video attivate la campanella per le notifiche e andate anche sul sito della fanta tennis per partecipare l'anno prossimo a questo punto al gioco del canale troverete già il regolamento anche inglese per chi non è italiano sul sito del fanta tennis appunto fanta tennis punto net troverete il calendario trovere tutto quello che serve vi aspetto nella diretta che farò il 3 di dicembre per raccontarvi chi ha partecipato ovviamente già sa e poco è cambiato rispetto allo scorso anno ma i nuovi arrivati potranno chiedermi tutto in chat potranno potranno togliersi ogni tipo di dubbio nella diretta del 3 di dicembre orario ovviamente ancora da definire vi farò sapere più in qua sono in corso per il fanta tennis le finals quindi in bocca al lupo a tutti i partecipanti partiamo dunque con la il racconto di atp finals atp finals che oggi pomeriggio hanno visto fritz vi battere un medvede un medvedev assolutamente non diciamo non nel torneo un po quello che era successo a parigi 6 4 6 3 quindi vittoria per l'americano che a questo punto andrà a sfidare sinner che ha battuto direi di prassi perché ormai sinner deminaur è una partita che finisce più o meno quasi sempre allo stesso modo sinner abbattuto deminaur 6 3 6 4 e la prossima giornata del gruppo a gruppo sinner o gruppo ora non mi ricordo il tennista che è assegnato al gruppo a nel senso quello che con cui viene chiamato il gruppo a la prossima giornata sarà la sfida fra i due perdenti quindi tra medvedev e deminaur e poi la sfida probabilmente in serale tra gli anni sinner e fritz chiaramente la sfida tra medvedev e deminaur è una sfida per la sopravvivenza perché chiunque vinca poi avrà la possibilità di nel caso di deminaur di trovare fritz nel caso di sinner di trovare medvedev scusate nel caso di medvedev di trovare sinner per sopravvivere la partita tra fritz e e sinner vale una buona parte di qualificazione anche in virtù del fatto che entrambe le partite di oggi sono finite due set a zero quindi chiunque vince va sicuramente in positivo nei set e in un arrivo a tre necessariamente con uno positivo nei set serve uno negativo cioè non esiste che tutti e tre si esiste tutti e tre ma nella classifica avulsa poi ci sarebbe diciamo che per andare tutte e tre positivo bisognerebbe che si incastrassero dei risultati abbastanza particolari chi vince tra sinner e fritz e dovesse vincere anche due set a uno andrebbe a tre set a quattro set vinti uno perso potrebbe finire massimo 4 3 considerando che chi può fare benissimo può finire 4 2 ma per finire 4 2 deve vincere due set a zero entrambe le partite insomma viene da pensare che chi vince tra tra sinner e frizza abbia anche se non è vero perché teoricamente può succedere di nuovo ma insomma un piede e mezzo in in semifinale quindi martedì perché queste partite si giocheranno di martedì è una giornata campale per quanto riguarda questo girone domani inizia il il gruppo il gruppo b il gruppo zerev con con i primi con i primi match ovvero con zerev che affronterà rublev e e alcaraz che troverà troverà a rud alcaraz rud sarà la partita pomeridiana sarà la partita delle 14 zerev rublev sarà la partita delle 18 e si delle 20 e 30 alle 18 c'è il doppio più o meno in realtà credo 18 e 30 il doppio 19 ora non ricordo l'orario ma insomma la partita in serale sarà zerev rublev la partita in pomeridiano che poi l'orario ovviamente dipenderà anche dal doppio anche se con gli orari che hanno dato alle finals è difficile che un doppio sfori sfori le due ore però tecnicamente ecco alle 14 si dovrebbe giocare alcaraz rud e alle 20 e 30 si dovrebbe giocare il zerev rublev è chiaro stessa formula del gruppo a quindi i due vincenti si sfideranno presumibilmente mercoledì sera i due perdenti giocheranno mercoledì pomeriggio questo più o meno dovrebbe essere il calendario ovvio che sono favoriti sia zerev che alcaraz alcaraz più favorito di zerev nel senso che è un po più probabile veder vincere rublev contro zerev di quanto non lo sia veder vincere rud contro alcaraz e chiaramente arrivare primi in questo girone mentre nel girone di sinner arrivare primi o secondi comunque becchi una semifinale piuttosto complicata qua arrivare primi primi o secondi cambia perché insomma la vittoria di fritz per 2 a 0 su medvedere probabilmente toglie toglie dai giochi o rende molto complicata la qualificazione di danni alle semifinali e quindi il vincitore del del girone presumibilmente almeno che non succeda una catastrofe e che sinner perda da fritz martedì sera cosa che può starci ma insomma anche la finale degli us open ha fatto vedere che c'è un buon margine tra tra sinner e fritz il campo probabilmente anche più lento svantaggia ancora di più l'americano il campo che a detta di sinner è più lento di quello dell'anno scorso e quindi diciamo che vincere il girone nel gruppo di zerev serve ad evitare presumibilmente sinner in semifinale è il problema del tabellone di sinner che è più complicato perché sinner comunque passa per pre molto probabilmente salvo salvo un portate nel senso perché un alcalazzo non inciampi come come inciampato a parigi bercy contro umbert presumibilmente la semifinale del vincitore del girone di sinner è una semifinale più complicata è chiaro che più complicata non vuol dire che sinner non può vincere sinner parte nettamente favorito in questo torneo e tutti noi ci auguriamo di poter festeggiare domenica quel titolo che sinner ha sfiorato già lo scorso anno quando dopo aver battuto gioco vicine gironi non so se vi ricordate perse appunto da novak la finale del torneo io credo di avervi detto tutto noi ci vediamo domani sera a un'ora un pochino più tardi circa un'oretta dopo perché purtroppo il lavoro chiama c'è purtroppo per fortuna via il lavoro chiama e il mio turno finisce a mezzanotte quindi cercherò di fare il video intorno a mezzanotte un quarto mezzanotte e mezzo ci vediamo più tardi domani per parlare appunto delle due partite del secondo girone ci aspetta una settimana di grande tennis buon divertimento a tutti iscrivetevi al canale lasciate like al video attivate la campanella per le notifiche e iniziate a ispezionare il sito www.fanta tennis.net per partecipare al fanta tennis il prossimo anno è un gioco divertentissimo gioco che vi terrà tutta la stagione con a dover a dover seguire questo sport meraviglioso e soprattutto tutta la stagione a dover controllare i risultati delle partite ed è veramente divertente ciao a tutti e alla prossima